dunque come anticipato in questa seconda ora ci occupiamo di una grana che abbiamo rimandato fino ad ora praticamente dall'inizio del corso cioè la gestione di quelli che sono i tipi di data temporali quindi date e orari in java la gestione delle date è sempre una rogna in tutti i linguaggi di programmazione perché perché è una cosa complicata di per sé io vi farò proprio un brevissimo flash su quelle che sono le classi vecchie tradizionali java ma veramente andremo velocissimo su quella parte proprio perché non ci interessa lavorarci solamente sappiate che c'è un riferimento lì che vi spiega qualcosa su come se dovesse servire su come funzionano o non funzionano su quali problemi hanno le classi base e poi ci butteremo invece su due temi che ci interessano di più cioè come si usano le classi del package java.time che sono quelle che suggeriamo di usare sono state introdotte in java 8 da java 8 in avanti e poi come questo si intreccia con le date come sono rappresentate nel database perché poi per noi ovviamente il problema sempre è che i dati non solamente i dati in generale ma in particolare anche i dati temporali non li gestiamo solamente in in java ma anche in sql qui vi faccio breve la storia anche una storia molto interessante quello di capire come gli esseri umani misurano il tempo che è complicatissimo complicatissimo è cambiato più volte durante la storia e il sistema di misurazione attuale del tempo è diciamo così sfugge ancora tutta la sistematizzazione che ad esempio il sistema internazionale ha messo in tutte le altre unità di misura qui continuiamo a misurare il tempo in unità di misura strane anni mesi giorni di durata variabile di lunghezza variabile poi abbiamo in mesi le settimane che si intrecciano in modo sia in modo strano ma a parte quello che è una scelta del calendario poi abbiamo il fatto che gli orari non sono uguali su tutto il pianeta quindi quando io dico sono 10 33 sto dicendo che sono 10 33 nel nel fuso orario in cui noi siamo adesso tenendo conto che abbiamo l'ora legale e quindi non è un'informazione assoluta ma è però un programma deve tenere conto di questo nel senso che quando voi che non so vi collegate a un sito il sito vi fa vedere l'ora in cui siete voi o l'ora in cui è sta girando il server a cui vi collegate e se utenti diversi si collegano sul sito vedono stessa ora oppure no sono complicazioni veramente veramente pesante addirittura ci sono dei siti apposta una serie di barzellette di quelle che fanno ridere solo i programmatori che elencano tutte le falsità che noi crediamo essere vere c'è tutta una serie di affermazioni false che a volte diciamo così le diamo per scontate non scrive un programma ma in realtà stiamo ci stiamo dimenticando che ci sono una serie di casi particolari magari non conosciamo neanche cioè tutti noi abbiamo imparato cosa sono gli anni bisestili e quindi c'è un giorno in più ogni tanto già anche solo la regola con cui si decide in quale anno aggiungere quali anni sono di bisestile o no non è non è poi così semplice non è solo 1 ogni 4 ma 1 ogni 4 tranne 1 ogni 100 ma con un aggiunta 1 ogni 400 per i prossimi 10 mila anni poi si vedrà ma poi ogni tanto viene aggiunto un secondo no a una mezzanotte quindi ci sarà il 23 59 che durano non 60 secondi ma bensì 61 secondi una volta ogni tanto per aggiornarsi con gli orologi atomici insomma è tutto molto molto più complicato di quanto non non pensiamo non vogliamo pensare ma qui ci sono dei link se volete sbizzarrirvi di capire perché le cose sono più complicate vi ho messo nelle slide un paio di link e poi quando noi parliamo di tempo in realtà intendiamo cose diverse ad esempio la cosa più semplice è pensare al tempo come un istante di tempo adesso adesso sono 10 35 del 19 aprile 2021 questo è un istante di tempo un momento questo istante di tempo magari viene misurato in modi diversi diverse parti del mondo perché se io parlassi con un australiano lui mi dirà che non sono le 10 del mattino ma sono le 10 di sera però fa riferimento allo stesso istante di tempo però non è l'unico tipo di informazione temporale che mi interessa ad esempio mi interessa il giorno allora quando sei nato giorno mese anno non è un istante di tempo è una giornata intera quindi di quel giorno lì non mi interessa l'orario mi interessa solamente il mese e l'anno e il giorno quindi una informazione parziale oppure posso avere interesse a rappresentare un'informazione parziale di tipo temporale cioè l'ufficio è aperto dalle 9 alle 17 quando sempre tutti i giorni quindi il giorno non mi interessa mi interessa solamente l'orario e così via ci sono delle date ricorrenti natale natale che cade ogni anno il 25 dicembre quindi un evento un metodo che controlli se è natale deve controllare solamente il mese e il giorno oppure abbiamo intervalli di date quando io dico questo lavoro faccio scheduling richiederà due settimane di lavoro queste due settimane sono misurate a partire da oggi quindi sono un intervallo di tempo una sorta di vettore a tempo che viene applicato a partire da una certa data quando io dico due settimane sono sempre due settimane indipendentemente che cominci oggi o che cominci tra un mese quella è la durata poi questa durata può essere shiftata in avanti indietro nel tempo senza cambiare senza cambiare la sua natura dire due settimane e dire dal primo al 15 di maggio sono due cose diverse in entrambi i casi hanno durato due settimane ma quando dico due settimane sto sottintendendo che sono sempre due settimane indipendentemente da quando comincio quando dico se dicesse dal primo 15 maggio invece sto parlando di una ben specifica istanza di una coppia di settimane quindi anche osservando come noi usiamo l'informazione temporale ci accorgiamo che c'è tutta una complessità sotto che ovviamente poi il linguaggio di programmazione dovrà dovrà riuscire a gestire e passando ai linguaggi di programmazione ci sono due anche qua due mondi diversi due modi diversi da presentare il tempo che noi chiameremo tempo macchina e tempo umano il tempo macchina è semplice è un numero è un numero intero che convenzionalmente parte da zero in un certo istante e si incrementa si incrementa misurando i millisecondi o misurando i nanosecondi o i microsecondi a seconda della risoluzione del sistema operativo ho definito uno zero che normalmente è il primo gennaio 1970 per convenzione in molti sistemi di calcolo del tempo macchina il tempo zero è quello e basta e poi ho un numero intero che mi rappresenta il numero di millesecondi che sono passati da quell'istante di tempo quindi ho un numero crescente lineare semplice poi ho il tempo umano che è quello che noi conosciamo misurato in mesi, anni, settimane, giorni eccetera eccetera che ha tutte le complicazioni dei fusi orari, del calendario eccetera eccetera è chiaro che alla macchina computer conviene fare i conti così ma a volte ovviamente dovremo anche riuscire a convertire da e per le due tipi di rappresentazioni e quindi avremo classi diverse o metodi diversi a seconda del tipo di rappresentazione del tempo che abbiamo e ovviamente ciò che dovremo fare con i dati sono operazioni di input output qualunque sia il formato interno della data io la voglio stampare in un modo leggibile, in un modo comprensibile oppure la voglio poter leggere dall'utente scritta in un modo decente, in un certo senso convenzionale secondo ovviamente la cultura e la lingua del mio utente e poi ho tutte le parti di aritmetica e quindi poter fare la somma, la differenza, la distanza tra due date applicare una durata a una certa data e così via oltre che ovviamente lavorare con gli oggetti che hanno dei componenti, delle parti quindi io ho una data, voglio conoscere il mese, voglio conoscere il giorno voglio costruire una data conoscendo il mese e il giorno eccetera eccetera queste sono operazioni più di basso livello quelle di alto livello sono leggere, scrivere e far di conto in certo senso con oggetti di tipo data in questa complessità c'è una, vi do solo due sigle, due definizioni per UTC si intende quello che noi volgarmente chiamiamo l'ora di Greenwich o il tempo coordinato universale, il tempo standard che fa riferimento a un determinato fuso orario in realtà astratto perché non è neanche davvero il tempo di Greenwich l'ora di Greenwich perché c'è uno scarto circa di un secondo rispetto a quello effettivamente dell'osservatorio di Greenwich di Londra quindi ormai è diventato uno standard astratto rispetto al punto diciamo così, in cui è stato definito inizialmente i fusi orari sono degli offset positivi o negativi rispetto a questo tempo universale e a volte la complicazione è che ci sono la cosiddetta ora legale o DST, Daily Savings Time che va a modificare il fuso orario in cui viviamo per un certo periodo dell'anno quindi io per conoscere la relazione che c'è tra l'ora locale e l'orario universale, l'UTC devo conoscere sia l'offset quindi quanti fusi orari di distanza ci sono sia il fatto che localmente ci sia o non ci sia l'ora legale in vigore e se questo ora legale è di 30 minuti o di 60 eccetera eccetera quindi qualunque libreria che deve lavorare con le date dovrà conoscere i fusi orari che sono ad esempio rappresentati qua che non sono del tutto fisici nel senso che vedete che la forma dei confini dei fusi orari segue molto spesso i confini politici delle nazioni piuttosto che non, diciamo così, l'ora solare a picco effettiva per ragioni di comodità guardate ad esempio l'Islanda che è totalmente un fuso orario spostata ma mantiene lo stesso fuso orario convenzionale della Gran Bretagna o la Spagna che è sotto la Gran Bretagna ma mantiene l'orario dell'Europa centrale o così via questo è ciò che è stato definito ma per fortuna in realtà noi siamo già in un caso in cui questi fuso orari sono ben definiti a livello internazionale se io andassi indietro di... ma non è un secolo sono solo 80 anni fa il fuso orario era definito a livello di singola città questo è un esempio di una tabella comparativa di orari quando a Washington è a mezzogiorno che ora è... che ne so... a Boston che a mezzogiorno è 24 mentre invece a Buffalo sono le 11.53 quindi ogni città aveva il suo orario spostato anche di minuti così definito in modo arbitrario, convenzionale si sono cominciate a porre questi problemi solamente quando hanno cominciato a costruire le ferrovie e allora ovviamente l'orario di partenza, l'orario di arrivo erano quasi sempre due fusi orari diversi chiamiamoli così, non si chiamavano ancora fusi orari perché stavano in città diverse potete capire il casino no? quindi hanno cominciato... abbiamo cominciato come umanità diciamo così a uniformare, a porci il problema di avere una misura del tempo uniforme sul globo quando ci sono stati trasporti, quando sono andate le ferrovie prima non importava tutto sommato ciascuno faceva riferimento al campanile della propria città quindi di passi avanti ne abbiamo dovuti fare adesso siamo arrivati per fortuna a uno standard internazionale il famoso ISO 8601 che definisce qual è il modo corretto standard di scrivere e rappresentare le date quindi lui dice le date devono essere rappresentate secondo questo formato anno-mese-giorno e non giorno-mese-anno cioè noi, vabbè, noi abbiamo in Italia si scrive che oggi è il 19 aprile 2021 ecco, questa data dovrebbe essere rappresentata correttamente nello standard ISO come 2021-04-19 in realtà poi questo 0 tante volte non si mette neanche nella nozione diciamo così normale, quotidiana mentre invece nella norma ISO il mese a sé occupa sempre due cifre allora cosa stiamo dicendo? stiamo dicendo che un programma ovviamente dovrà nell'interfaccia utente adeguarsi alle convenzioni nazionali dei nostri utilizzatori ma internamente tutte le volte che può deve usare una rappresentazione più rigida più standardizzata del tempo quindi questa è la rappresentazione locale questa è la rappresentazione ISO standard della stessa data la libreria ovviamente dovrà permetterci di poter leggere o scrivere in entrambi i casi questa rappresenta una data senza tempo se invece volessi rappresentare un istante di tempo dovrò specificare la data l'ora separate dalla lettera T che è una lettera convenzionale non standard ISO con in più il fuso orario perché se io non ti dico qual è il fuso orario non ti sto dando un istante di tempo ti sto dando un istante di tempo che a seconda di dove vivi è diverso quindi non sto specificando un istante di tempo quindi il fuso orario va sempre specificato Z è un'abbreviazione per il fuso orario a offset 0 quindi UTC l'orario centrale altrimenti qua dentro ci sarà un più o un meno un certo numero di ore ore e minuti perché ci sono i fuso orari sfalsati di 30 minuti non di 60 rispetto agli altri per complicarci la vita ed è la rappresentazione standard principale adesso le altre alternative le altre varianti non andiamo neanche a guardare quindi ricordiamoci che il formato principale interno se dobbiamo lavorare con le date sono questi due data da sola anno meleggiorno separato da trattini ora da sola ora, minuti, secondi separati da due punti data e ora la concatenazione della rappresentazione della data e della rappresentazione dell'ora separate dalla lettera T e seguite dall'indicazione del fuso orario questo è il formato diciamo così con cui vogliamo usare questi sono i problemi che vogliamo affrontare come sono stati risolti? allora Java sin dall'inizio aveva una libreria aveva delle classi scusatemi per poter rappresentare le date nella versione 1.0 hanno definito la classe date che sta dentro java.util hanno definito nella java 1.0 ma nella versione già 1.1 di java la maggior parte di questa classe dei metodi di questa classe erano già stati marcati come deprecati tipo non usateli perché hanno dei problemi però questo oggetto qua nonostante sia vissuto diciamo così per pochissimo e ancora oggi usato ovunque in tutta l'applicazione perché è la base della rappresentazione delle date in java quali hanno questi problemi? per qualcuno lo accenderemo ma hanno fatto sì che la IBM a quell'epoca avesse sviluppato indipendentemente una classe sua per rappresentare le date che si chiamava Calendar molto contorta nel suo utilizzo e abbia detto alla Sun Microsystem che stava gestendo le versioni di java ma senti sai cosa la tua classe date fa schifo io ne ho fatta una migliore te la regalo e quindi dalla JDK 1.1 abbiamo avuto in libreria non la classe date non la classe calendar ma tutte e due di cui date era molto deprecata ma alcuni metodi esistevano ancora e calendar si aggiungeva però era abbastanza complicata da usare questi di IBM non hanno fatto il passo di poter dire usiamo calendar e dimentichiamoci date perché calendar non implementava alcune cose che date invece implementava e quindi è ancora stato necessario mantenerle quindi siamo andati avanti per 10 o 15 anni con questi due oggetti date e calendar che facevano schifo adesso vi accenno forse perché e poi per fortuna del Java 8 hanno inventato una libreria hanno definito standardizzato una libreria nuova che sta in un package che si chiama java.time che per fortuna affronta le cose in un modo ordinato corretto e comprensibile l'hanno fatta l'hanno definito questo standard copiando in certo senso ispirandosi a una libreria che si chiamava Yoda Time che nel frattempo visto quanto facessero schifo gli oggetti date e calendar degli sviluppatori indipendenti avevano creato una libreria open source per potersi per poter lavorare in modo più comodo con questo tipo di dati e quindi gli sviluppatori di Java hanno detto ispiriamoci a quella che comunque è stata sviluppata indipendentemente funziona bene e la standardizziamo direttamente dentro la versione standard di Java e come vedremo è molto più ordinata e molto più vicina al modo di pensare umano nell'utilizzo della classe allora cosa c'è di brutto nelle classi precedenti allora l'oggetto date si chiama date ma in realtà non è altro che un istante di tempo cioè il numero di millisecondi è un numero è un intero date è un int anzi un long int non è altro che un long int che quindi ti rappresenta un istante di tempo misurato dal primo gennaio di 1970 quindi si chiama date ma in realtà rappresenta un numero di millisecondi quindi un tempo non è possibile con l'oggetto date di rappresentare una data senza un orario associato e quindi questo crea una serie di problemi perché l'orario lo devo mettere specificamente a zero altrimenti assumo un orario diverso e questo zero però non è uguale per tutti perché quello che sono le 0 e 0 e 0 per me nel fuso orario fianco sono le 1 e 0 e 0 quindi questo già subito crea problemi di rappresentazione perché questo oggetto è pensato solo per rappresentare gli istanti di tempo ma invece lo usiamo per rappresentare delle date lavora in UTC ma non sempre ma non non perfettamente perché quando l'UTC viene aggiustato di un secondo alla mezzanotte l'oggetto date non concepisce che ci possa essere il 61esimo seconde in un minuto quindi questo di fatto che cosa è rimasto dell'oggetto date non non deprecato semplicemente scusate aggiungo solo una cosa questo qua vuol dire che sta ragionando in tempo macchina in base alla definizione che abbiamo detto prima cioè lui misura un tempo che parte da un istante 0 e va avanti poi me lo fa vedere come se fossero ore, giorni, minuti, secondi ma internamente l'oggetto date pensiamo sempre che è un istante di tempo in tempo macchina posso creare una data all'istante attuale senza parametri posso invece passare una data in millisecondi e mi crea l'oggetto date che in realtà semplicemente dentro si memorizza quel numero e poi ha essenzialmente dei metodi ha due metodi prima e dopo un confronto è facile dentro c'è un numero intero maggiore o minore mi dice se due date sono maggiore o minore una data è maggiore o minore di un'altra getTime e setTime sono dei getter e dei setter del numero intero diciamo così che lui memorizza del time quindi è anche abbastanza carino il fatto che un oggetto che si chiama date abbia un metodo setTime che il metodo setTime il quale setta sia la data che l'ora quindi è una confusione totale chi impara a usare queste librerie questi metodi non ci mette un attimo a capire diciamo cosa succede anche proprio il nome del metodo poi vabbè io questo ve lo salto ci sono tutti i metodi per prendere un oggetto di tipo date che ricordiamoci di un istante di tempo e poi formattarlo o parsificarlo quindi leggere da stringa a data o da data a stringa attraverso degli oggetti collaterali separati che sono dei date format object quindi definisco un date format e secondo di questo date format posso definire vari tipi di formati che sono diciamo anche indicati da delle sigle e mi generano mi convertono l'istante di tempo in una rappresentazione adatta alla lingua locale e di tipo diverso quindi più o meno abbreviata oppure posso usare vedete che qui cambiando la località mi cambia la forma in francese in tedesco in inglese in cinese giapponese e così via arabo quindi sono tutte capacità che ha non tanto l'oggetto date ma quanto l'oggetto date format di poter convertire però con dei formati predefiniti se invece volessi scegliere io il formato ad esempio il formato ISO non è previsto in date format e quindi me lo devo costruire io specificando un format però come vi dico noi non usiamo questi oggetti quindi non entro nel dettaglio di quanto riescono a fare se non vi avrete il fatto che c'è tutto un linguaggio di codici che permettono di comporre la stringa come voglio andando a pescare l'anno il mese il giorno della settimana il giorno del mese eccetera eccetera vabbè qui vado avanti poi c'è come vi dicevo la classe calendar che è stata aggiunta rispetto a date quindi cosa posso fare con la classe date leggere da una stringa convertire in una stringa e fare confronti maggiore e minore basta la classe calendar invece è stata aggiunta per poter ragionare anche in termini di unità umane di tempo anni mesi giorni eccetera solo che hanno voluto farli esagerati anziché pensare che la data fosse anno mele giorno loro hanno detto la data è fatta di un insieme di campi generico perché magari oggi c'è il calendario gregoriano che siamo noi ma domani ci sarà il calendario marziano oppure quello di alfa centauri che sono fatti diversi e quindi noi vogliamo che la classe calendar sia indipendente e quindi hanno aggiunto la complicazione perché non ha una nozione nativa di mese ma ce l'ha attraverso degli attributi che vengono a loro volta configurati quindi è abbastanza complicato è possibile convertire un oggetto date in oggetto calendar chiamando un metodo set time anche qua fa ridere perché il metodo set time vuole un oggetto di tipo date perché non si chiama set date non lo sappiamo oppure puoi settare un qualunque campo dove ci sono dei codici interi che rappresentano i vari campi l'anno il mese il giorno quindi anche qua è abbastanza complicato questi sono alcuni i campi definiti per il cosiddetto gregorian calendar che è il nostro che poi praticamente è l'unico che è stato definito però questa classe è stata definita in modo generale e poi con una serie di campi specifici e quindi ci sono tutta una serie anche di chiamate poi speciali ad esempio c'è un metodo set per impostare l'anno mese giorno e tu dici vabbè con questo set imposto una data e il problema è che tu imposti in realtà l'anno il mese e il giorno ma ore minuti secondi quando usi il metodo set di un oggetto calendar si ricorda quelli di prima e quindi non li mette a zero quindi stai mettendo l'anno mese giorno mantenendo i secondi di prima ore minuti secondi di prima ovviamente i bacchi che saltano fuori con questo meccanismo qua vi lascio immaginare e così via e quindi uno può dire vabbè però questo oggetto calendar ha dei metodi in più è in grado di lavorare sia di passare verso date sia anche di estrarre mesi i singoli componenti della data il mese il giorno la settimana peccato che si sono dimenticati di aggiungere alla classe calendar tutti i metodi di parsing e di formatting per cui se un oggetto calendar la voglio stampare devo prima convertirlo in data in oggetto date e poi fare il format per stamparlo viceversa se ho una stringa non posso leggere direttamente come oggetto calendar prima devo fare il parse attraverso il date formatter in oggetto data e poi passare a calendar un macello il codice scritto con queste cose qua era un macello perché poter leggere una singola cosa dovevi usare quattro classi diverse e dei metodi il cui nome era abbastanza poco chiaro in più però la classe calendar aveva già un pochino di aritmetica poteva fare aggiunta aggiungi un mese tra i due giorni e cose di questo genere ma non molto di più ecco veniamo noi però a quello che usiamo adesso la classe il package scusatemi java.time il package java.time qui ci sono dei link se volete approfondire è stato ridefinito per avere un metodo uniforme e chiaro di gestione delle date quindi hanno detto dimentichiamoci il passato ripartiamo da zero con un comportamento ben definito con una struttura uniforme è chiara per i diversi tipi un principio chiave un principio chiave delle classi del package java.time è che tutti gli oggetti temporali sono immutabili immutabili come una stringa cioè una volta che ho creato un oggetto non lo posso modificare e quindi per modificare un campo dovrò fare che cosa? creare un oggetto nuovo partendo da quello vecchio modificando qualche cosa quindi abbiamo dei metodi un po' diversi per costruire o per modificare gli oggetti ad esempio io posso dire che il mio primo compleanno è uguale alla data di nascita più un anno ecco questo plus non modifica questo oggetto ma restituisce un oggetto nuovo costruito partendo dall'oggetto precedente e modificandolo in questo caso sommando uno all'anno ok quindi avremo dei metodi che hanno dei nomi strani of vediamo tra un attimo form with eccetera eccetera perché seguono questa logica di immutabilità il fatto di avere gli oggetti immutabili risolve già subito tutta una serie di problemi di bacchi ovviamente e poi sono stati pensati con una struttura tipo fluente cioè ogni metodo che agisce su un oggetto a sua volta restituisce l'oggetto stesso e quindi in cascata posso fare più chiamate di metodi ad esempio questo oggetto punto width punto minus eccetera eccetera si concatenano questo tipo di chiamate non è una cosa a volte ci permette di condensare in una sola riga quello che altrimenti avrebbe richiesto più metodi in più in più in più istruzioni diverse ok venendo a noi il package java.time definisce queste classi ciascuna di queste classi rappresenta un tipo diverso di informazione temporale che vorremmo rappresentare noi abbiamo già usato local date local date è un oggetto che rappresenta lo vedete qua una data composta da anno mese e giorno e non rappresenta ore minuti e secondi quindi quando mi interessa solo rappresentare la data uso local date e non mi interessa anche il tempo se io invece volessi anche il tempo potrei usare local date time che come vedete oltre ai campi di una data rappresenta anche ora minuti e secondi se lavoro nella fuso orario locale se invece volessi lavorare in un fuso orario diverso userai lo zone date time che in più rappresenta anche il fuso orario come ad esempio rappresentato qua nella sua rappresentazione quindi a seconda a differenza di date che era solamente un istante di tempo e basta non ci potevo far nulla qui quando creo l'oggetto sto dicendo esplicitamente quali sono i campi di questo oggetto che mi servono quali sono le informazioni temporali che sto usando ad esempio year lo useremo magari molto nelle simulazioni dice ok io ho un'informazione di cui mi interessa solamente l'anno anche l'anno accademico l'anno scolastico è inutile inventarsi anche il mese mi interessa l'anno oppure l'anno e il mese oppure solamente il mese voglio fare qualche cosa voglio stampare un calendario mi interessa solamente magari l'elenco dei mesi o cose di questo genere quindi ho questo ventaglio di oggetti possibili in modo da poter scegliere quello che più si adatta al tipo di di calcoli che devo fare quasi sempre useremo local date oppure local date time nella maggior parte dei casi oppure c'è anche ovviamente un local time per rappresentare solamente ora e minuti secondi indipendentemente dalla data se ci interessa solamente ragionare all'interno di una singola giornata e su tutti questi oggetti sono definiti gli stessi metodi quindi molto uniforme cioè abbiamo gli oggetti da una parte i metodi dall'altra si possono combinare in tutti i modi possibili in particolare sono tutti i metodi col nome diciamo un po' strano perché sono figli di questa logica di immutabilità del dato quindi per creare un oggetto io posso usare tre metodi come vedete sono tutti i metodi definiti di static factory quindi di creano l'oggetto usando un metodo statico of from oppure parse la differenza è facile da capire perché lo legge da una stringa prende una stringa e lo converte in un oggetto quindi se voglio creare una local date farò un local date punto parse e gli passo come parametro una stringa da cui lui cerca di estrarre di capire quale data è scritta oppure ho i due metodi of of è crea un oggetto mettendo insieme i vari pezzi ad esempio local date punto of anno mese giorno allora crea un oggetto di tipo local date usando i singoli componenti che sono l'anno il mese e il giorno di cui questo è composta il metodo from è simile a of nel senso che crea un oggetto partendo da altri oggetti ma dove c'è il rischio di perdere informazione cioè ad esempio se io avessi un local date time che ha sia data che ora e lo volessi convertire in un local date quindi ha solo la data mi perdo l'ora allora in questo caso usarevo il metodo local date punto from e tra parenti gli metto il local date time quindi from costruisce un oggetto a partire da un altro dove questa costruzione può essere imperfetta posso perdere dei dati chiaro lo voglio perché lo voglio non è che li perde a caso perché quel tipo di conversione implica una perdita dei dati invece of costruisce un oggetto mettendo insieme i pezzi componenti o parse lo costruisce a partire da una stringa però ci accorgeremo che lavorando in java punto time le stringhe le useremo pochissimo la maggior parte dell'elaborazione la faremo direttamente con gli oggetti che è sempre un vantaggio e poi ci sono degli altri metodi per modificare gli oggetti per lavorare con questi oggetti ad esempio il metodo with che poi in realtà perdon che poi in realtà si usa poco perché ci sono tutta una serie di altri metodi predefiniti che prende un oggetto e ne servisce un altro che è una coppia del primo in cui un elemento è cambiato quindi col mese più uno col con l'anno meno uno e cose di questo genere e ovviamente un caso particolare di with sono i più e il meno che sono molto molto frequenti molto frequentemente utilizzati questi metodi qui funzionano sia che voi lavoriate con date sia che voi lavoriate con orari che con date time e cose via quindi qua ci sono alcuni esempi ad esempio per creare la data di natale io creo localdate.of qui non faccio new sono tutti metodi di factory statica e quindi per creare un nuovo oggetto local date farò chiamo il metodo of mi costruisce un nuovo local date immutabile corrispondente a anno mese e giorno specificati poi se voglio il mese anziché indicare 12 ho una serie di costanti simboliche definite month.genuary.february.march oppure weekday.monday.tuesday.wednesday eccetera sono delle costanti simboliche che ci aiutano a non usare dei numeri quando vogliamo qualcosa di più leggibile e una volta che ho creato un oggetto posso andare a analizzarlo dimmi quale è ora dimmi quale è il minuto di quale è il mese eccetera eccetera sono tutti i campi che posso estrarre da un oggetto temporale quegli oggetti sono tutti oggetti che ragionano sul tempo umano se vogliamo invece lavorare col tempo macchina ci sono oggetti separati quindi non c'è confusione non è come date prima che in realtà internamente lavorava in tempo macchina ma aveva dei metodi che ti facevano credere che lavorassi con un calendario qui sono separati quindi tutti gli oggetti che hanno dentro date oppure time nel nome sono tempo umano altrimenti il tempo macchina che è molto più semplice c'è una classe che si chiama instant che rappresenta un istante di tempo ovviamente si può convertire un istante di tempo in un local date time o viceversa in un local date time in un istante di tempo conoscendo ovviamente il fuso orario perché l'istante di tempo essendo un istante assoluto fa sempre riferimento al fuso orario z al fuso orario centrale al tempo coordinato quindi non ha un'opzione di scusate di 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 fuso orario interno e quindi quando devo convertire un local date dico sì va bene quell'istante di tempo come si chiama in ore, minuti, secondi in quel fuso orario l'istante di tempo invece è neutro per cui nelle conversioni vedete qui c'è un metodo of instant of è un crea a partire da un istante con una determinata fuso orario specificato l'instante useremo non moltissimo essenzialmente i metodi parse e format grande novità usano per default il formato ISO per fortuna a differenza dei metodi parse e format il to string eccetera dei metodi date che usavano un formato loro non standard questi metodi usano per loro natura il formato ISO poi ovviamente lo posso personalizzare se non voglio ovviamente le date stampate in formato ISO usando una classe formatter in questo caso si chiama date time formatter e non solamente date formatter come anzi date format come era in passato una classe separata che ti permette poi di personalizzarlo adesso qua ci sono alcuni esempi dei vari stili con cui può essere stampata o convertita in stringa col format oppure letta col parse una determinata data secondo il formatter che gli specifico quindi vedete che i formati base sono quelli ISO e poi ci sono tutti i vari formati più o meno diciamo così nazionalizzati come esempio questo localized date time mi da una data in formato diciamo così conversazionale che posso applicarlo quindi quando devo stampare quando devo giocare qualcosa oppure mi creo il mio formatter anche qua ci sono dei codicilli per poter costruire il formato così come ci serve ma non andiamo a impazzirci diciamo che noi 99 su 100 andremo a leggere queste date dal database e avremo avuto cura nel database di memorizzarle in formato ISO e così ci viviamo tranquilli essenzialmente e la parte di formatting ci servirà soprattutto per andare a visualizzare le date in un certo modo ma ci interessa soprattutto se poi l'output dovesse essere curato in una certa maniera noi siamo più interessati agli algoritmi che all'input output per fortuna ecco su questi oggetti è possibile ovviamente fare operazioni aritmetiche somma sottrazione hanno già un campo un metodo plus un metodo minus per poter aggiungere e togliere una certa durata di tempo a un intervallo di tempo a una data di partenza ma poi c'è sotto una serie di classi molto evolute che si chiamano temporal adjusters che modificano un istante una data o un valore una valore temporale con delle regole anche complesse allora le le operazioni aritmetiche più semplici alla fine sono queste confronto maggiore minore uguale e poi somma meno o più chiaramente tutte queste sono simmetriche di giorni di ore di minuti di nanosecondi di mesi di anni eccetera eccetera quindi operazioni di somma e sottrazione e poi ci sono i cosiddetti temporal adjusters che qui ho riportato i più importanti che data una certa data ad esempio ti restituiscono il primo giorno di quel mese o il primo giorno del mese successivo oppure che ne so il primo mercoledì del mese a volte si dice oppure l'ultimo first in month dato un giorno della settimana qual è il primo lunedì del prossimo mese qual è qual è l'ultimo giorno dell'anno qual è l'ultimo giorno di questo mese oppure l'ultimo giovedì del mese sono tutte cose che soprattutto in ambito diciamo così contabile sono importanti e farle a mano fare a mano i calcolini vi assicuro che è noioso e è molto facile sbagliare mentre invece qua ci sono questi oggetti che già conoscono tutte le particolarità del calendario e quindi vi danno già la risposta giusta ci aiutano a pensare un pochino più ad alto livello poi esistono ma qua non mi soffermo altri classi altri due classi che si chiamano period and duration che invece oh perdono devo invertire questi period and duration che invece rappresentano intervalli di tempo sai prima come dicevo quando dicevamo un lavoro che dura due settimane allora queste due settimane non è una data ma è un periodo di tempo che può essere applicato a partire da una certa data quindi ci sono queste due classi duration e period che sono rispettivamente un intervallo di tempo in tempo macchina quindi duration si applica a instant oppure period è una durata è un intervallo di tempo in tempo umano e quindi period si applica a local date time tipicamente e quindi si misura un periodo in mesi giorni anni mentre duration invece si misura in millisecondi in nanosecondi vabbè questo adesso come vi dire non entro nel dettaglio di questi ma ci possono servire per fare operazione di somma sottrazione la differenza tra due date ovviamente sarà un period o quando devo spostare in avanti una data la sposterò avanti di un period o di una duration che in realtà è il delta quindi distinguiamo quelli che sono i valori assoluti da quelli che sono le differenze e si usano oggetti diversi esistono anche dei metodi di conversione per passare da uno all'altro dal mondo delle classi precedenti al mondo delle classi nuove in particolare ci può servire dato un oggetto tipo calendar posso ottenere l'instant corrispondente oppure posso creare un oggetto di tipo date a partire da un istante e così via quindi posso convertire da oggetti vecchi a oggetti nuovi nel caso in cui qualche parte della libreria usasse ancora gli oggetti vecchi e adesso lo vediamo tra un attimo perché purtroppo ok quindi questi sono oggetti semplici da usare ci vuole un attimo chiaramente leggere la documentazione quando dobbiamo fare qualche operazione un pochino più complicata ma essendo tutto molto lineare è tutto sommato facile trovare le cose che ci servono quando faremo nell'ultima parte del corso le simulazioni ad eventi dove dovremo effettivamente lavorare col tempo avremo modo di anche conoscere un pochino meglio il modo di lavorare però non abbiamo finito qua purtroppo perché a noi manca ancora un pezzettino perché noi i nostri valori tipo ore e data non li abbiamo nativi in java ma molto spesso sono anche memorizzati all'interno del database e quindi dobbiamo innanzitutto capire come SQL memorizza le date e le informazioni temporali e come queste si conciliano con quelle di java arriveremo alla fine a uno schemino complessivo un disegno che ci riassume il tutto che sarà poi quello che operativamente ci servirà tanto per dare il punto di arrivo allora SQL come gestisce le date allora se voi andate a prendere lo standard SQL dice che esistono vari tipi di colonne tipi di dati nel database che possono essere date data senza d'ora time ora senza data timestamp che è la combinazione di una data e di un'ora e tutti questi possono eventualmente essere with time zone quindi date e ora che hanno una time zone associata qui non ti dice il timestamp o il time se sono relativi all'ora locale o all'ora o al fuso orario assoluto sei tu che devi saperlo mentre invece un dato with time zone invece è come time ma in più contiene i dettagli sulla fuso orario questo è ciò che dice lo standard MySQL e MariaDB non fanno proprio la stessa cosa date contiene date senza orario nel formato anno mese giorno va bene somiglia all'iso però è una cosa strana perché supporta solamente le date dal primo gennaio 1000 al 31 dicembre 1999 limitazione che invece non c'è nel campo standard date però è così gli somiglia abbastanza poi c'è un campo in MySQL date time che contiene data e ora che è molto simile al time stamp dello standard nello standard time stamp era data e ora in MySQL data e ora messi insieme invece si chiamano date time quindi chiama in un modo diverso un tipo di dato standard MySQL poi per semplificarci le cose MySQL ha anche un tipo di dato che si chiama time stamp che però non è la stessa cosa del time stamp dello standard perché è invece un tempo macchina tempo macchina calcolato in millisecondi e quindi ha tra l'altro un range di rappresentazione che essendo tempo macchina parte solamente dal 1970 e non dall'anno 1000 e arriva solo fino al 2038 e non fino al 1999 quindi questo time stamp di MySQL è un po' diverso rispetto al day time di MySQL e anche diverso rispetto al time stamp dello standard se i database differiscono i vari database differiscono nel modo di interpretare la SQL la parte sulle date è una delle parti in cui differiscono di più in più MySQL ha una caratteristica strana per cui il time stamp può essere a volte applicato in automatico a una colonna è una cosa molto comoda ma per nulla standard tutte le volte che fai un'aggiunta o una modifica di una tabella lui ti può mettere in una colonna in più che dichiari come default current time stamp ti mette automaticamente l'ora della modifica quindi quando hai dei dati su cui stai lavorando vai a vedere ma questo qua quando è che l'ho inserito vai a vedere nel database e in automatico lui ci ha messo quella data però è una cosa non standard quindi bisogna fare attenzione a non usarla poi c'è un campo time che invece è abbastanza simile a quello dello standard anche se ha un formato un po' strano che le ore non vanno da 024 ma vanno da meno 800 più 800 quindi è più adatto a intervalli di tempo che non a tempi assoluti e poi stranamente un tempo anno year che può lavorare o con due cifre oppure con quattro cifre attenzione che se usa due cifre usa delle regole di conversione predefinite per cui se i numeri maggiori 70 si suppone che siano nel 1900 e i numeri minori 70 si suppone che siano nel 2000 qualcosa è una somma di stranezze ovviamente poi una cosa che poi spesso ci dimentichiamo è che in realtà anche il database è capace a fare delle operazioni con le date quindi somme differenze somme somme date somme i tempi add date e date add sono funzioni molto simili però vogliamo fare attenzione perché hanno i parametri leggermente diversi perché si sono cioè la SQL è evoluto molte volte e quindi si sono aggiunte delle varie funzioni poi posso avere la che ne so ad esempio month month è la funzione che data un campo data del database mi restituisce il mese rispetto a quelle date lì oppure l'ora oppure l'anno eccetera eccetera faccio la sottrazione tra due orari tra due tempi posso la differenza ci sono ad esempio due funzioni diverse sub time e time dif per fare la differenza tra due istanti di tempo sono molte funzioni bisogna leggersi la documentazione molte sono parzialmente ripetute proprio perché questo standard è evoluto diciamo così poco per volta però molte operazioni ricordiamocelo le possiamo molte operazioni di calcolo di date le possiamo far fare direttamente al database usando queste funzioni dentro le query dentro le select oppure ci prendiamo il dato e lavoriamo in java usando i metodi del package java.time i metodi aritmetici che abbiamo visto prima sta a noi decidere essenzialmente a chi far fare l'elaborazione qualora dovessimo ragionare tipo i dati di domani quelli di ieri le coppie di elementi che non sono più distanti di tre giorni l'una dall'altra query di questo genere possiamo delegare il database oppure prenderci i dati e farle in java però questo finora con ciò che abbiamo detto è mysql mysql il database se faccio le query nel sql ma io le query non le faccio a mano le faccio attraverso jdbc il mio connettore il mio connettore fa le query sul database ma poi mi restituisce degli oggetti java che io posso estrarre con get date get string get int eccetera eccetera allora come si combinano i due mondi si combinano definendo nel senso che lo standard jdbc definisce due tipi di dato che sono date e time vabbè anche timestamp in realtà date e time che però attenzione non sono java punto util punto date ma sono java punto sql punto date così come sotto abbiamo java punto sql punto time sono tipi diversi da java punto util sono delle sottoclassi che vengono che sono i dati restituiti dal dal database quindi quando faccio una query e restituisco una colonna di tipo data questa viene posso poi leggere attraverso un get date che mi restituisce un java punto sql punto date oppure un get time che mi restituisce un java punto sql punto time differiscono perché trattano in modo diverso i millisecondi perché i millisecondi java li vede ma il database in realtà non li vede e così via quindi vanno sono delle piccole variazioni ma delle classi standard non delle classi di java punto time quindi c'è una conversione per cui quando io ho una colonna di tipo date nel database mi viene tradotta in un oggetto di tipo sql punto date una colonna datetime viene convertita in una colonna di tipo timestamp quindi qua mi vado a riprendere il nome standard della colonna timestamp dal sql standard e quindi un po' dobbiamo solo fare attenzione diciamo così al tipo di oggetto java che andiamo a creare è una rogna no? è complicato non è difficile semplicemente sono tanti casi particolari e dietro sono stratificate molte versioni di standard sql sono stratificate molte versioni di java che fanno sì che la cosa sia un pochino complicata allora cercando di semplificarla quali sono dei metodi per usare e convertire i dati che ci interessano allora noi abbiamo date e timestamp che sono i tipi di dati supportati dal JDBC dall'interfaccia verso il database quindi quando vogliamo passare una data con un set nel prepare statement oppure quando vogliamo leggere una data con un get date nel result set avremo un oggetto di tipo date java.sql.date questo java.sql.date lo posso convertire in una local date semplicemente perché c'è il metodo to local date nella data del database quindi io farò get date result set punto get date e mi dà quella colonna come oggetto date e immediatamente punto to local date che me lo converti subito nell'oggetto java.time e non ci penso più se devo fare il contrario un set avrò un oggetto local date devo convertirlo in un date e lo posso convertire attraverso il metodo value of quindi avrò date punto value of tra parentesi l'oggetto local date mi restituisce l'oggetto date che posso passare a sql quindi con questi due metodi to local date e value of io posso immediatamente convertire un valore java.time di tipo local date nel valore date da passare al database se invece avessi ora e ora e tempo quindi anche in formazione temporale userò nel database un timestamp e ho sia i metodi per convertirlo da e verso un instant e l'instant a sua volta lo posso convertire in local daytime ma aggiungendo la fuso orario che qui non c'è per questo qui c'è scritto instant non local daytime perché nel database il fuso orario non c'è e quindi non lo potrebbe inventare quindi devo prima convertire in instant e poi eventualmente local daytime aggiungendo il fuso orario e anche qua avrò i metodi from instant e value of che mi permette di creare e leggere i dati quindi la nostra regola sarà questi tipi java.sql punto date java.sql punto time stamp possono esistere solamente dentro i metodi del dao dentro il metodo del dao sono obbligato a usarli perché lì si parla java.sql ma i parametri di questi metodi del dao saranno sempre per noi local date instant o local date time tipi di java.sql e quindi questa figurina di prima qua la faccio vedere in modo un pochino più espanso dove ci sono tutte le varie conversioni che ci servono quello che vi dicevo all'inizio che è un discorso un po' articolato ma alla fine si riassume tutto in in questo schema che ci permette di ragionare sempre io parlo di local date perché è l'oggetto che si usa di più lavorando con le date l'ora un pochino meno ma local date time non è molto diverso e solo solo quando devo fare una query o devo restare i risultati della query devo temporaneamente usare degli oggetti tipo date o time stamp di java.sql mai quelli java.util quelli me li posso dimenticare anche se in realtà poi questi sono derivati dagli altri ma non li vedo io e fare direttamente queste conversioni subito dentro i metodi del dao quindi questo è lo schemino che ci può servire suggerimenti pratici java.util date java.util calendar dimentichiamoceli facciamo finta che non esistano se scriviamo del codice se vediamo del codice in giro che li usa sappiamo cosa sono ma non è niente di più usiamo sempre gli oggetti della classe java.time sembrano più complicati perché hanno più metodi eccetera ma in realtà sono più semplici da usare e date e calendar che sembrano più semplici in realtà sono complicati perché hanno dei metodi che si chiamano in modo sbagliato e si comportano in modo sbagliato quindi non facciamo questi errori che hanno già fatto in molti in sql usiamo sempre i tipi di colonna giusti quindi se devo usare una data per favore facciamo una colonna di tipo date non facciamo una colonna di tipo string di tipo test o un varcial cioè le date messe dentro le stringhe sono una fonte di problemi perché poi devo fare il parse eccetera eccetera il database non le capisce non è in grado di confrontarle eccetera eccetera quindi cerchiamo anche sia a livello java che a livello sql se c'è una data va in una colonna date o in un oggetto local date mai in una stringa se vedo qualcuno che fa operazioni sulle date mettendole dentro le stringhe si sta facendo del male ma tanto del male da solo questa sarà di fatto la sintassi che useremo sempre quando leggiamo una data quindi il riassunto dello schermino precedente il caso più frequente è questo quando leggo una data del database farò così e mi da direttamente l'oggetto local date tanto qui non ci sono eccezioni possibili oltre a quelle delle sql la conversione non perde informazioni in questo caso e i metodi del dao non devono mai accettare o ritornare degli oggetti di java sql ma solamente java.time ma questa è una regola che ci avevamo già dati il package java.sql può vivere solo dentro la classe dao dall'esterno non devono sapere che esista e se possibile ricordiamoci che il database è capace a fare i conti quindi tante volte tanti problemi si risolvono complicando un pochino la query facendo fare la query già dei confronti o degli ordinamenti o dei calcoli che invece sarebbero molto più pesanti pesanti non dal punto di vista del tempo di computazione pesanti dal punto di vista del codice che devo scrivere da fare direttamente in java se facessi una query stupida del database e poi mi ritrovo tutti i dati che devo poi filtrare e controllare in particolare ci sono una serie di quelli che ho chiamato errori mortali qua anche iconograficamente li ho indicati così sono codici che si vede in giro c'è gente che dice ma io voglio sapere se questo è il mese di marzo allora prendo la data converto in to string e poi so già qual è il formato della stringa quindi vado a prendere i due caratteri quindi da 3 al 2 il carattere 3 e il carattere 4 e li converto in intero e vado a vedere qual è il mese ecco questa cosa qua oltre al fatto di essere totalmente illeggibile noi allora avevamo un oggetto di tipo date e per restare il mese l'abbiamo convertito in una stringa poi abbiamo preso un pezzo della stringa e l'abbiamo convertito in intero bravi bastava prendere l'oggetto date e chiedergli senti ma che mese è questo ok quindi tante volte codici che si vede in giro ma non solo scritto da voi si fanno dei giri incredibili chissà perché passando sempre da una stringa oppure costruire un oggetto data mettendo insieme year.toString month.toString date.toString messi insieme poi convertiti in data ma perché ci sono i costruttori che partendo da anno mese e giorno mi danno già l'oggetto data per fortuna la libreria java.time ci invoglia già a usare i metodi corretti queste storture qua questi obrobri sono nati molto spesso perché l'oggetto date non aveva il metodo che mi serviva per costruire la data oppure cose di questo genere domani domani cos'è dei più più sembra facile però in realtà attenzione che se siamo al 31 del mese oppure al 30 del mese con 30 giorni oppure al 28 di febbraio purché non sia il 29 perché è bisestile allora in quel caso devo incrementare anche il mese però se il mese era già dicembre devo incrementare anche l'anno cioè un'operazione che sembra banale come dire da oggi passo a domani se provo a sfarmela a farmi i conticini da solo usando diciamo così i dati mi perdo e sbaglio perché di sicuro poi qua ci sono dei casi particolari che ci dimentichiamo ricordiamoci che c'è plus days uno in local date che mi fa questo lavoro quindi non fate i calcoli con le stringhe quando parliamo di date non fate i calcoli con gli interi ma usiamo usate gli oggetti che sono fatti bene ok e ci risolvono quindi spendiamo quei 20 secondi 30 secondi 2 minuti per trovare qual è il metodo giusto usando le classi usando gli oggetti e non spendiamo magari 5 minuti a scrivere una cosa che poi ci vogliono 2 ore a debagare perché non funziona di sicuro e ci siamo dimenticati qualche caso particolare quindi su questo avviso mortale io qua vi lascio quindi abbiamo imparato un pochino meglio cos'è il local date come usarlo e dove andare a trovare l'informazione che ci serve e quindi da questo momento in avanti poi potremmo usarlo anche per cose un pochino più complicate rispetto a quello che abbiamo fatto finora quindi usare anche dei database che abbiano una componente di informazione temporale maggiore di quella che degli esempi che abbiamo visto finora ok mi scuso siamo due minuti fuori quindi vi saluto rapidamente vi ricordo solo ancora una volta chi vuole venire al laboratorio domani in presenza deve prenotarsi domani non ci sarà il laboratorio online perché sarà la giornata del laboratorio in presenza chi vuole fare online in remoto lo potrà fare solamente mercoledì vediamo come va una settimana o due e poi vediamo come assastarci capire se ha senso potenziare la presenza potenziare online eccetera come sempre le cose sono capitate dal venerdì al lunedì ma ormai siamo abituati grazie di tutto scusate se ho sforato e ci vediamo nei prossimi giorni grazie a tutti grazie a tutti